Ciao ragazzi, bentornati sul canale Sala Perinele, è un po' che non ci sentiamo, andiamo avanti con questa quarantena in casa, quindi ho modo anche di farvi sentire un altro gioiellino, una Gretsch, una Rinov sempre, caratteristiche simili a quella dell'altra volta, cassa da 22, 12 e 16, piatti un po' di varie marche tra Istanbul, Ufip, Zalta e sabbia. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.